Tutti ricorderete la storia di Francesco Merola, il 35enne di Capaccio Pestum, che lo scorso gennaio è stato colpito da una forma grave di encefalomielite che lo ha portato a rimanere purtroppo paralizzato. Impossibilitato a ricevere cure per via dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, la moglie di Francesco, con un accorato appello, si rivolse alle Iene per trovare una struttura specializzata nella sua riabilitazione. E proprio grazie a questo appello Francesco trovò una struttura pronta ad accoglierlo e ha potuto cominciare il suo percorso. Ora Francesco è a casa, ma ha bisogno ancora di assistenza e tanta terapia. Ha subito da poco un intervento a causa di una brutta piaga sul corpo. Il percorso è ancora lungo, difficile e soprattutto costoso. La solidarietà verso Francesco non si è mai fermata. Infatti un gruppo di amici ha lanciato una nuova raccolta fondi. È possibile donare il proprio contributo all'Iban IT05V3608105138227354527358 intestato a Francesca D'Alessandro. La battaglia è appena iniziata e questo tipo di sostegno può essere fondamentale. Sosteniamo ancora una volta Francesco. lui è l'eroe delle sue tre piccole principesse e deve ritornare forte come i vecchi tempi per poterle riabbracciare.